Ecco qua Ci siamo, ci siamo, ci siamo Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo Ci siamo, ci siamo, ci siamo Ovviamente per Kadhaji non si bada a spese Vado direttamente di GM Per chi ovviamente non lo dovesse sapere Perché non è scontata una cosa del genere Quindi vi metto anche la vostra Proprio per pullare Proprio così Allora intanto andiamo di Free Ticket Vediamo se già Kadhaji Ci vuole bene Con il Free Ticket No Il Free Ticket non ci ha detto niente Va bene Ok Ok Orbo Dorata Vediamo che cosa succede Vediamo se Kadhaji mi vuole bene E magari mi fa risparmiare ancora risorse Vabbè la ex già ce l'avevamo Dai vediamo Niente Va bene Va bene Kadhaji mi io ti prego Non mi fare spendere Madonna orbazzura Però attenzione Perché le orbazzurre Ci hanno sempre portato bene In realtà Le orbazzurre ci hanno portato sempre bene Quindi Chissà Chissà Vedremo 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 Vediamo se si mantiene la Vediamo se si mantiene la tradizione Per ora no Niente Ok Questa volta è stata una orbazzurra originale I preferiti E' la mia maledizione Raga E' la mia maledizione Questa No Tre ne avevo Ticket viola Va bene Va bene la ex Anche perché comunque la sfera di Kadhaji non è bruttissima Quindi va bene Niente E va bene E va bene Kadhaji purtroppo Vuole che io Vuole che io spenda I miei preferiti si fanno sempre desiderare Madonna da quant'è che non toccavo le gemme Mamma mia Madonna mia Mi fa pure impressione pullare con le gemme E' da un sacco che non le toccavo Veramente un sacco E' da veramente un sacco che non le toccavo Vabbè qua sicuramente farò pity Devo Devo riequilibrare il karma Devo riequilibrare il karma Sono pronto Sono pronto a riequilibrare il karma Sono pronto a riequilibrare il karma niente per il momento multivuote ho visto un connecting però credo credo che non voglio dire nulla questa vabbè se non trovo la forza dopo il ptbt la cerco con i tiget non le spendo altre gem ovviamente c'è sti bars ok orbo dorata va bene va bene orbo dorata va bene può essere tutto le orbo dorate sono diventate le nuove argentate praticamente quindi è quello il discorso le orbo dorate sono le nuove argentate che c'erano prima niente 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 sempre orbo dorata vediamo se si trasforma in realtà mi piacerebbe trovarla la bt piuttosto che pitarla ma per una questione mia diciamo di piacere personale non per altro perché mi piacerebbe vedere proprio l'orbo incazzata di kadaj però che cosa vuoi saian tu devi sparire devi sparire saian ah ho visto un altro loading però orbo azzurra così per tutti quelli che si lamentano che io sculo che io sono culone eccetera eccetera vedete che sto spendendo che non trovo tutto subito visto mi sto per tutti quelli che poi sparlano e dicono che sono culone vedete che sto spendendo eccoci divertitevi 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 tanto io lo vado a pitare non me ne frega nulla anche se lo vado a pitare alla faccia vostra alla faccia vostra io me lo vado a pitare il mio cadagino così imparate così si gioca pitage va bene invece meglio così uso le gemme e non pullo selfie che non la posso pullare e dico e mi dispiace mi avete fatto pitare e mi dispiace vediamo se skippando no niente volevo fare volevo fare il metodo skip non funziona madonna mia tutte orbe azzurre skip no basta non si skippa più madonna mia tre orbe skip resettiamo il banner facciamo come come i giappini skip facciamogli capire al gioco cosa voglio facciamo come i video rituali di una volta facciamo così ok adesso il gioco sa cosa voglio ora me lo da guarda 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 oh no la fr non mi è uscita vabbè ma la fr la cerco con i ticket in caso me ne frego anche che li spendo tutti i ticket me ne fotte niente ho 700 ticket quindi l ld buona però no 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 gioco no non era quello che volevo no va bene però no no questo no skip no volevi vuole guarda che fascia guarda che fascia non se l'aspettava skip no le orbe azzurre voglio tentare lo schippone ma non funziona lo schippone madonna mia skip io ho la maledizione dei preferiti raga purtroppo è così oh attenzione però potrebbe essere la fr e vado a ptbt e va bene così e mi andrebbe bene così oh dai almeno ho vinto cadagino vediamo 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 guarda uscisse la fr era buona in realtà che ormai che sono vicino sono vicino a piri vediamo vediamo Sono all'ultima multi Oddio, attenzione Attenzione Va bene Skip Guna Ormai è Skip Guna Che poi in realtà la Guna lo devo anche pullare Che ce l'ho verde Ce l'ho anche verde Quindi lo devo pullare Madonna E' allucinante sta cosa Non c'è due senza tre È incredibile La Guna qua La Guna La Guna secondo me bisogna bannare Qua bisogna bannare la Guna Secondo me Tocca bannare Ah vedi anche Angel tra l'altro Quindi allora io selfie non la pullo Perfetto Ok da qua ho deciso che non pullo più selfie Allora il PDT per la BT ce l'ho Quindi a sto punto ora vado di ticket Sperando che Non mi mangi 74.000 ticket Dai 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 su Va bene farmi soffrire Però Ok la dorata la guardo No no non pullo No no non pullo né guy Né selfie Né niente Non pullo più nessuno Basta Pullo soltanto quelli che voglio io Così imparate Basta Non si fanno più sconti qua dentro Basta non si pulla più niente Anzi pullo selfie e poi la vendo Direttamente Proprio la pullo e la vendo Così Per il meno Ok Va bene 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 Va benissimo Va benissimo Va benissimo Ok Va benissimo Va benissimo Oh per tutti quelli che mi dicono culone Eccovi qua vedete Così imparate così vedete Che anche io sono una persona normale Come tutti quanti Oh